Buona domenica, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione settimanale del Tg7. C'è la cronaca in apertura, operazione antidroga lunedì scorso con un blitz del ross dei carabinieri e 71 arresti. Di maxi sequestro di sette quintali tra eroina afghana e marijuana, l'operazione denominata ellenica ha smantellato un traffico internazionale di stupefacenti che aveva la base dello spaccio nel quartiere Rancitelli di Pescara. La procura distettuale antimafia dell'Aquila ha commentato che l'Abruzzo rappresenta il nodo nazionale di smercio dei vari flussi di eroina importati dai Balcani. Un fiume di droga che dai Balcani arrivava in Italia, in Abruzzo in particolare, dove tre associazioni per delinquere, di cui una la più sviluppata con base operativa a Pescara, smerciava la sostanza stupefacente in tutta l'Europa. 71 arresti, di cui 58 in carcere, 11 ai domiciliari, 2 con obbligo di rimora nei loro comuni di residenza. Questi i numeri dell'operazione che si è conclusa questa mattina all'alba. Sette quintali di droga tra eroina importata dall'Afghanistan e marijuana, il giro d'affari di questo articolato suo adalizio criminale dedito al traffico trasnazionale di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati fatti in Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Sicilia. Gli arrestati sono stati presi anche in Albania e in Kosovo, dove sono stati rintracciati sette degli indagati, grazie alla sinergia dell'Europol con le polizie, degli stati toccati da quest'operazione denominata ellenica, rispettivamente l'Albania, il Kosovo e la Bosnia. Le indagini suddivise in più procure italiane sono state poi concentrate in mano alla procura distrettuale antimafia dell'Aquila, che insieme ai ROS dei carabinieri hanno portato a termine, alla fine di una lunga attività di indagine durata in circa otto anni, gli arresti avvenuti la scorsa notte. Per eseguire gli arresti sono stati utilizzati oltre 200 carabinieri, oltre che la squadra elicotteristi di Bari dell'Arma, i nuclei cinofili ed i militari in servizio nelle zone dove sono avvenuti gli arresti. L'organizzazione verticistica si serviva di tre gruppi criminali che svolgevano diversi compiti e che avevano come fine ultimo quello del traffico di sostanze stupefacenti. La prima organizzazione che faceva capo ai narcotrafficanti, Indri de Docle e Isit Krasnaqui, era costituito principalmente da persone di nazionalità albanese ed era articolato in due celle radicate a loro volta in Albania, tra Durazzo e Tirana, e l'altra in Kosovo. Quest'ultima era proiettata anche in alcune città italiane, Pescara, dove c'era la base logistica italiana, la Spezia, Milano, Bergamo, Padova, Udine, Asti, Mantova, Firenze, Roma, Ravenna, Imola, Bologna, Taranto, Bari ed infine Lecce. Il secondo sodalizio criminale, che aveva le basi in Bosnia invece, capeggiato da Adnan Ilyazagmic, aveva il compito di gestire i trasferimenti dei carichi e reclutare i corrieri per trasportare la droga in tutta Europa. Le indagini hanno appurato che dal Kosovo la prima organizzazione stoccava l'eroina proveniente dalla Turchia e che uno dei due capi, Krasnaqui, faceva da raccordo tra le diverse componenti albanesi e bosniache. Grazie alle indagini incrociate si è arrivati a delineare la responsabilità delle singole organizzazioni malavitose per quanto riguarda numerose importazioni di droga, di cui 200 kg di eroina sequestrata in Italia. Un'organizzazione ben strutturata in reparti. Le indagini hanno appurato infatti che è una branca dell'organizzazione a prevalenza bosniaca, addirittura si preoccupava di fornire le pistole semiautomatiche di Kalashnikov per un gruppo acquirente della droga in Italia. Canoni idroelettrici. L'Abruzzo, prima regione in Italia, attuerà le direttive europee e incasserà circa 5 milioni di euro. La proposta è del consigliere regionale Franco Caramanico di SEL ed è stata approvata dall'emiciclo. Sui canoni idroelettrici in Abruzzo saranno attuate le direttive europee, mediante le quali stabili riaffidare nuove concessioni sulla base di gare pubbliche e saranno assicurate alle casse della regione nuove entrate per circa 5 milioni di euro l'anno. Lo consente il disegno di legge approvato il 15 ottobre in Consiglio regionale relativo alla disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico in scadenza che in base alla normativa europea possono essere concesse solo con gara a evidenza pubblica. L'ha spiegato il consigliere regionale di SEL, Franco Caramanico, in conferenza stampa a Pescara, aggiungendo che tali gare non sono finora mai state espletate per la mancata approvazione da parte del Governo nazionale dei requisiti organizzativi e finanziari delle società partecipanti, come stabilito dalla direttiva della Comunità europea dal 1996. È un problema abbastanza emblematico perché coinvolge anche il Governo nazionale e mette in evidenza un atteggiamento omertoso da parte del Governo nazionale che dal 1999 non definisce le linee per poter fare la gara d'appalto, quindi per rispondere anche alle sollecitazioni della Comunità europea che ha aperto già un procedimento di inflazione nei confronti del Governo italiano e non dà la possibilità alle regioni di fare le gare e quindi di strappare le condizioni migliori. Quindi in attesa di fare le gare questa legge stabilisce altri dei sovraccanoni, dei rimborsi di carattere ambientale e una specie, questa si chiama la prima regione in Italia, una specie di affitto perché questi beni oggi sono della regione per quanto riguarda quelle strutture, quei bacini che sono stati realizzati nel passato e che hanno bisogno di una certa manutenzione, diciamo quella che è realizzata da oltre 60 anni. Martedì scorso, a vasto con l'accusa di omicidio volontario, è stato condannato a 30 anni di carcere Hamid Maatawi, 36enne di nazionalità marocchina, unico imputato nel processo per il delitto di Michela Strever, pensionata di 73 anni, trovata morta lo scorso 19 dicembre nella sua casa incontrata a Villa De Nardis. Condanna in primo grado per il presunto omicida di Michela Strever, la 73enne trovata morta in casa incontrata a Villa De Nardis a vasto il 19 dicembre scorso. Hamid Maatawi, unico imputato, è stato condannato a 30 anni di reclusione con il rito abbreviato che si è svolto nel tribunale di Vasto. Il nordafricano è accusato dell'omicidio dell'anziana, trovata senza vita, legata e imbavagliata. Il giudice del tribunale, Caterina Salusti, ha accolto la richiesta del PM Giancarlo Ciani, che nella requisitoria aveva sottolineato la particolare crudeltà dell'omicidio, aggravato dalla condizione di debolezza fisica della 73enne che aveva problemi di deambulazione. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'intenzione del marocchino sarebbe stata quella di regolare i conti in sospeso con Antonio Strever, fratello di Michela. Maatawi conosceva gli Strever, avendo svolto lavori saltuari per loro. Si era recato nella casa della donna per cercare del denaro, ma poi era scattata la violenza, picchiandola, legandola e infine mettendole un fazzoletto in bocca che l'ha soffocata. Su richiesta della parte civile, rappresentata dall'avvocato Arnaldo Tascione, sono stati inoltre dissequestrati tutti i beni della famiglia Strever, in particolare quelli del fratello della vittima che inizialmente era rimasto coinvolto nelle indagini. Maatawi, una volta bloccato dagli inquirenti in Puglia, a pochi mesi dal delitto, aveva confessato di aver derubato e aggredito la donna la mattina di quel 19 dicembre, ma di averla lasciata in vita. L'uomo, di nazionalità marocchina, è difeso dall'avvocato Nicola Artese, che ha chiesto e ottenuto per il suo assistito il rito abbreviato davanti al GUP di Vasto. E ancora a martedì scorso, a Pescara è iniziato il processo Roberto Di Santo, il 58enne di Rocca Montepiano, arrestato dopo dieci giorni di latitanza con l'accusa di atti incendiari nel Pescarese e a Chieti. Con l'esame di alcuni testimoni ha preso il via oggi al Tribunale collegiale di Pescara il processo che vede imputato Roberto Di Santo, il 58enne di Rocca Montepiano, arrestato nel gennaio 2013 a Rosciano dai carabinieri dopo dieci giorni di latitanza con l'accusa di atti incendiari nel Pescarese e a Chieti. Tra i testimoni anche i carabinieri che si sono occupati delle indagini. Subito dopo l'arresto il pubblico ministero aveva chiesto nei confronti dell'uomo il giudizio immediato, accolto poi dal GIP del Tribunale. Di Santo è accusato, fra le altre cose, di aver costruito e piazzato un ordigno incendiario a Villa Nova di Cepagatti, di aver dato fuoco all'auto della sorella davanti al Tribunale di Chieti e di aver appiccato un incendio in una ex casa famiglia sempre nel Chietino. Nel corso dell'interrogatorio effettuato dopo il fermo, l'uomo aveva ammesso di aver effettuato gli attentati, sottolineando però che gli ordigni erano innocui e che non voleva fare del male a nessuno. Di Santo sarà ascoltato nel corso della prossima udienza e in programma il 17 dicembre. Gradimento dei sindaci per l'Abruzzo. Ci sono soltanto Massimo Cialente e Umberto Di Primio nella top 36 dei primi cittadini italiani. Critiche dal PD pescarese a Mascia, il sindaco di Pescara è inesistente. Ci sono solo due sindaci abruzzesi, quello di L'Aquila, Massimo Cialente, a capo di un governo di centro-sinistra, e quello di Chieti, Umberto Di Primio, alla guida di un governo di centro-destra, nella classifica stilata da data media ricerche nell'ambito dell'indagine denominata Monitor Città, che indica il gradimento dei cittadini nei confronti dei sindaci delle città capoluogo in base all'operato. Nella classifica entrano soltanto i sindaci al di sopra del 55% di gradimento. Quest'anno sono in 36. Tra loro non c'è neppure una donna. La diciannovesima edizione dell'indagine relativa ai primi sei mesi del 2013 vede al primo posto ex eque i sindaci di Lecce e Pordenone. Per quanto riguarda l'Abruzzo, Cialente, primo cittadino di L'Aquila, si posiziona al numero 18. Il sindaco ha registrato rispetto al secondo semestre del 2012 un lieve incremento, pare allo 0,3% e si attesta al 58,2% di gradimento. Più in basso alla posizione numero 30 troviamo il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che riporta un 55,8% di gradimento, segnando un più 0,2% rispetto all'ultima rilevazione riferita al secondo semestre 2012. Il sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, non compare in classifica. È arrivata l'ennesima conferma, dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico Stefano Casciano. Pescara non ha più un sindaco. Anche questa volta aggiunge Mascia non è presente nella classifica dei sindaci più amati d'Italia e questo non sorprende, specie se si pensa che in questi anni ha continuato, mese dopo mese, a perdere consensi e credibilità. Mercoledì 23 ottobre i giudici hanno depositato le motivazioni della sentenza del processo Sanitopoli. Il grande accusatore Vincenzo Maria Angelini è considerato attendibile, preciso, logico e coerente nelle sue dichiarazioni. Il grande accusatore Vincenzo Maria Angelini è attendibile, l'ex patron di Villapini è preciso, logico e coerente. A 90 giorni dalla condanna a 9 anni e 6 mesi per l'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano del Turco, i giudici del Tribunale collegiale di Pescara hanno depositato le motivazioni della sentenza di primo grado per il processo nato dall'inchiesta cosiddetta Sanitopoli sulle presunte tangenti nella sanità privata regionale. Gli imputati, spiegano i giudici nelle motivazioni, avevano un vero e proprio programma criminale, volto a favorire nell'attività di iniziativa legislativa ed amministrativa in materia di sanità in violazione di legge, gli interessi delle case di cura, in particolare di quelle gestite dall'Angelini, su cui si è innestata l'attività corruttiva di questi. Programma, spiegano i giudici, diretto da Del Turco, organizzato da Lamberto IV, Camillo Cesarone e Giancarlo Masciarelli, ed eseguito da Bernardo Mazzocca, Francesco Di Stanislao e Antonio Boschetti, nonché dagli stessi del Turco e Cesarone, attraverso le rispettive attività amministrative e legislative. Il programma criminoso fu finalizzato, insistono i giudici, alla commissione di una serie indeterminata di delitti, quelli che all'occorrenza fossero serviti per realizzare il disegno di favoritismo, sia mediante l'utilizzo per fini illeciti delle strutture amministrative, come l'assessorato alla sanità, la ASD, Chieti e societarie, la fira e la fira servizi in cui gli imputati erano inseriti, sia mediante creazione di una struttura ad hoc in materia di sanità, la cosiddetta cabina di regia, che sostanzialmente si sostituì alla giunta regionale nel prendere le decisioni più rilevanti in materia di sanità. Angelini nel 2008, in sette interrogatori fiume, rivelò ai magistrati di aver pagato tangenti per un totale di circa 15 milioni di euro ad alcuni amministratori regionali in cambio di favori. Il più significativo riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni di Angelini, si legge ancora nella sentenza, è l'accertata generale condizione di illegalità e di favoritismo nei confronti delle case di cura del gruppo Villapini, nella quale entrambe le amministrazioni regionali abruzzesi, succedutesi all'epoca dei fatti, la prima di centrodestra, la seconda di centrosinistra, nonché la ASL Teatina nel periodo di gestione di Luigi Conga con l'avallo politico di Sabatino Aracu, hanno operato nel settore della sanità, illegalità, frutto della condotta proprio di tutti coloro ai quali Angelini ha dichiarato di avere consegnato denaro o concesso altri favori, anche non costituenti di per sé reato, quali l'assunzione di lavoratori da loro raccomandati. Cesarone e del Turco, agendo nelle loro rispettive qualità di consigliere regionale e di presidente della giunta regionale, hanno inoltre scritto i giudici, hanno richiesto ad Angelini la dazione di ingenti somme di denaro, prospettandogli, in caso avesse aderito alla richiesta, di orientare le attività amministrative e di iniziativa legislativa all'epoca in itinere presso la regione in senso favorevole all'attività imprenditoriale delle case di cura gestite da Angelini, avvertendolo che a causa delle attività ispettive e di indagine in corso era difficile aiutarlo, ma che erano i soli a cui poteva rivolgersi, sicché avrebbe dovuto sostenerli economicamente. Gli imputati hanno agito in posizione di sostanziale parità ed operato su un piano di interscambio contestuale tra attività del pubblico ufficiale e d'azione di denaro. È il passaggio in cui i giudici spiegano perché il reato di concussione è stato riqualificato in corruzione. A tali condotte, proseguono i giudici, hanno concorsualmente partecipato del Turco e Cesarone, materiale autore a entrambi delle condotte di illecita proposta all'Angelini, del Turco di ricezione del denaro, nonché quarta, recettore su incarico di del Turco delle richieste di Angelini e sostenitore dell'inutilità di accertamento delle inappropriatezze e della necessità di immediato riordino della rete ospedaliera, quale è responsabile dell'attuazione del programma dell'Aggiunta regionale e segretario della Presidenza e quindi portavoce della volontà politico-amministrativa dell'Aggiunta. Le percezioni di denaro sono state riscontrate attraverso gli accertamenti patrimoniali svolti dalla Polizia Giudiziaria. In particolare per del Turco sono emersi acquisti immobiliari con esecuzione di operazioni bancarie irregolari. Per Cesarone IV, secondo i giudici, è emersa una sproporzione tra redditi illecitamente conseguiti e di patrimoni personali ingiustificabili allo Stato, se non quale provento o reimpiego della percezione del denaro per cui si procede. Per Sabatino Araco, all'epoca deputato di Forza Italia, i giudici scrivono che non avendo l'imputato adeguatamente giustificato alla sproporzione patrimoniale, deve ritenersi altamente probabile che le spese sostenute e gli acquisti fatti dall'imputato dal 2004 in poi siano stati frutto dell'utilizzo del denaro ricevuto da Angelini. Cresce la Cassa Integrazione Guadagni in Abruzzo. In Abruzzo a settembre 2013 sono state autorizzate 3.697.000 ore di cassa integrazione per un totale di circa 28 milioni di ore nei primi nove mesi dell'anno contro i 24 milioni dello stesso periodo del 2012. I dati sono stati elaborati dalla CISL. In Abruzzo a settembre 2013 sono state autorizzate 3.697.000 ore di cassa integrazione per un totale di circa 28 milioni di ore nei primi nove mesi dell'anno contro i 24 milioni dello stesso periodo del 2012. Ad elaborare i dati IMSS è la CISL Abruzzo secondo cui l'andamento occupazionale non migliora ed è necessario intervenire subito per adottare misure importanti di sostegno al mercato del lavoro abruzzese. Stando ai dati elaborati dall'ufficio studi Ciancaglini del sindacato nei primi nove mesi di quest'anno la CIG ordinaria è aumentata del 7%. A registrare la crescita più preoccupante è quella straordinaria passata da 8,5 a 12,3 milioni di ore il 44% in più rispetto al 2012. La CIG in deroga monta a 6 milioni di ore ma il dato è destinato a crescere in quanto ancora influenzato dal rallentamento dei pagamenti di CIG e mobilità in deroga a causa della carenza di risorse. Sono l'industria, l'artigianato e l'edilizia i settori più colpiti dalla crisi mentre migliora la situazione nell'edilizia, nel commercio e nei servizi caratterizzati da una decisa flessione della CIG. Le persone che hanno beneficiato degli ammortizzatori sono aumentate passando da 15.624 a 17.869. Alla luce dei dati la CISL chiede l'immediata convocazione della consulta del patto per lo sviluppo dell'Abruzzo per lo sblocco delle risorse contenute nel pacchetto Presto 2. Ricordando il documento unitario presentato dai sindacati abruzzesi per quanto riguarda la programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 il segretario della CISL Abruzzo Molise, Maurizio Spina sottolinea la necessità di risorse specifiche per fronteggiare la situazione e promuovere spazi per lo sviluppo dando speranza alle popolazioni interessate. È importante ridare segnali di fiducia ai cittadini e alle aziende abruzzesi conclude il segretario come la riduzione della tassazione regionale aggiuntiva collegata al risultato di pareggio della sanità e l'adozione del pacchetto di risorse a sostegno dell'occupazione. Si erano specializzati nel furto di rame, pannelli fotovoltaici e cavi elettrici arrestati a vasto tre romeni tra i 36 e i 44 anni che devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata la commissione di furti. Si erano specializzati nel furto di rame, pannelli fotovoltaici e cavi elettrici in manette tre romeni tra i 36 e i 44 anni che devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata la commissione di furti. Le indagini hanno preso il via nell'aprile scorso a seguito di un considerevole furto di cavi elettrici avvenuto presso una centrale fotovoltaica nel territorio del comune di Gissi. I carabinieri hanno ricostruito attraverso l'analisi dei tabulati telefonici i movimenti di un determinato numero di soggetti, tutti romeni, presenti sul luogo anche nei giorni precedenti il furto. Le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza della centrale hanno mostrato come ogni componente della banda durante il furto avesse compiti ben precisi e si muovesse con estrema professionalità e sicurezza. L'organizzazione aveva preso di mira centrali Enel e fotovoltaiche dislocate nei comuni della provincia di Chieti, Gissi, Furci, Monti Odorisio, Fresa Grandinari, Attufillo, Dogliola, Scerni, Ortona e Penne nella provincia di Pescara. I furti scoperti hanno arrecato danni patrimoniali stimati in 2-300 mila euro. L'organizzazione aveva la sua base nell'Interland di San Severo. Le misure cautelari in carcere sono state eseguite dai carabinieri della compagna di Vasto insieme ai colleghi dell'arma di Foggia. A Lanciano i sindaci del centro-sinistra difendono la gestione Sasi del presidente Scutti e respingono le accuse mosse dai sindaci del centro-destra. In particolare il primo cittadino di Altino, Camillo Di Giuseppe Ribatte, l'onorevole Fabrizio Di Stefano e l'ex presidente Isi, Patrizio D'Ercole, vogliono far fallire la Sasi, ma noi glielo impediremo. Dopo l'attacco rivolto da alcuni sindaci del centro-destra capitanati dall'onorevole Fabrizio Di Stefano alla gestione della Sasi, oggi rispondono tutti i sindaci del centro-sinistra attraverso il sindaco di Altino, Camillo Di Giuseppe. Nell'occhio del ciclone, il rinnovo del consiglio d'amministrazione, che ha visto riconfermato il presidente Domenico Scutti ed eletti il consigliere Brunella Tarantini e Vincenzo Marcello, tutti del centro-sinistra. Il nominativo indicato dal centro-destra, Patrizio D'Ercole, ex presidente della Isi, società che gestisce il patrimonio e che in sei anni non ha mai convocato un'assemblea, non era nemmeno candidabile, ha detto Di Giuseppe, così come previsto dalla delibera assembleare votata all'unanimità e dalla spending review. Ma il centro-destra, nonostante ne fosse a conoscenza, ha voluto insistere con quel candidato, arrivando così alla costituzione di due liste e all'esclusione della rappresentanza del centro-destra nel CDA, rappresentanza che, sottolinea Di Giuseppe, non è tra l'altro prevista dallo statuto, che disciplina solo la procedura di elezione. Secondo il sindaco, obiettivo di Di Stefano e D'Ercole è portare la Sasi a fallimento. Io ho l'impressione, che è avvalorata anche da fatti, che sia quando era presidente della Isi, che oggi, ricorrendo a una serie di denunce alla Procura della Repubblica e agli altri enti di controllo nei confronti della Sasi, io penso che ci sia da parte di qualcuno la volontà di far fallire la Sasi, di toglierla di mezzo. E quindi noi, contro questa impostazione, siccome siamo per una gestione pubblica, efficiente ed efficace nell'acqua, ci battiamo e abbiamo nominato persone che sono tecniche, che non sono politici, che hanno un curriculum vite verificabile. Sono dei tecnici che hanno lavorato in tutta Italia per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici, con ottimi risultati, e quindi abbiamo affidato a tecnici la gestione della società, che per noi è fondamentale. Noi siamo per l'acqua pubblica, per una gestione efficace ed efficiente, e ci batteremo perché la Sasi esca dai problemi e soprattutto si ponga nella condizione di fare investimenti per il miglioramento del ciclo idrico integrato. Altro argomento di discussione, i bilanci. Ad eccezione di quello del 2012, certificato dalla Ernest Neyang, una delle più quotate società internazionali, quelli precedenti, che fanno registrare debiti per decine di milioni di euro, evidenzia di Giuseppe, altro non sono che il frutto della cattiva gestione dell'ex consorzio acquedottistico, gestito da un CDA, tutto di nomina politica, senza un tecnico e monocolore. La stessa parte politica, che oggi presenta esposti in procura, è accusa di cattiva gestione, invece il presidente Scutti, unico presidente tecnico, senza tessera politica e senza precedenti come assessore o consigliere. Il riferimento ai 5 miliardi di vecchie lire buttati nella borsa inglese e alla questione ACA, società romana OGSPA, cui il Tribunale ha riconosciuto in primo grado un credito di 9 milioni di euro. E l'altra è legata a una vicenda della CEA, che è una società di Roma privata oggi, che pretenderebbe da parte della Sasi e quindi dei cittadini del Sangroaventino e del Vastese, il pagamento per aver utilizzato questa società le acque del verde. Ora noi, siccome con questa società c'è una annosa questione che riguarda le concessioni sui fiumi e sulle sorgenti, abbiamo semplicemente detto che se dipendesse da noi, a parte la vicenda giudiziaria che è il suo ITER, noi non siamo disposti a pagare un centesimo alla CEA per aver utilizzato acque che sono da millenni a disposizione delle popolazioni del Sangroaventino e di tutta la regione. 60 milioni di euro per l'appalto per la gestione del centro unico prenotazioni regionali delle ASL d'Abruzzo sono troppi. Queste critiche sono state emosse dai consiglieri regionali Berardo Rabuffo di Fli e Giuseppe Tagliente del PDL oltre che dall'assessore regionale Gianfranco Giuliante sempre del PDL. L'appalto da 60 milioni di euro per la gestione del CUP regionale è stato il tema di una conferenza stampa promossa dai consiglieri regionali Giuseppe Tagliente PDL e Berardo Rabuffo Fli e dall'assessore regionale alla protezione civile Gianfranco Giuliante sull'argomento sentiamo la posizione del capogruppo di future libertà Berardo Rabuffo Una conferenza stampa questa mattina per dire a tutti le perplessità che abbiamo avuto sulla gestione di questa gara il problema non è nella scelta di fare un CUP unico in regione Abruzzo questo anzi può essere un criterio giusto e seguito anche in altre realtà o nella vicina regione Marche il problema è nella gestione di questa gara è stato messo a base d'appalto la sommatoria della spesa relativa alle varie ASL abruzzesi per questa problematica quindi si è arrivati a una gara intorno ai 60 milioni di euro aggiudicata per 54 milioni di euro quando nella regione Marche che omologa per abitanti per numero di prestazioni e anche per conformazione alla regione Abruzzo questo servizio costa un quarto un quinto intorno ai 12 milioni di euro nella sostanza che cosa chiedete? Noi adesso chiediamo rispetto alla denuncia di questa problematica perché se si fa una gara per centralizzare un servizio questo deve servire per efficientare il servizio e quindi migliorarlo e anche per far risparmiare ed avere delle economie nella gestione unica di questa problematica questo non è accaduto i costi sono gli stessi gli oneri sono tutti a carico della parte pubblica spendiamo 54 milioni di euro in Abruzzo a fronte dei 12 milioni di euro nella regione Marche quando noi abbiamo tante problematiche io come consigliere regionale ho visto arrivare in Abruzzo la protesta delle carrozzine per il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche il problema dei dializzati il problema dei ticket dei costi della sanità dei tagli il problema nella mia vicina a Giulia Nova per esempio della piccola opera Caritas che gestisce i disabili e i problemi di tante famiglie a cui vengono decurtati i contributi della parte pubblica allora 40 milioni di euro sono molti su una gara che costa 108 miliardi delle vecchie lire qualcosa è sfuggito bisogna controllare bisogna capire il perché di questo noi chiediamo io in particolare vorrei l'annullamento di tutto e che si vedesse di ottenere un risultato che miri all'efficienza e al risparmio e non a spendere di più ricostruzione dell'aquila il liceo classico cotugno ancora in attesa di ricevere dalla provincia aquilana la donazione di 400 mila euro post sisma da parte di Ebitemp è mistero sui fondi in cassa sono rimasti solo 50 mila euro è una storia è una storia di quelle infinite la vicenda riguardante la donazione di 400 mila euro che il liceo classico cotugno dell'aquila ha ricevuto quattro anni fa all'indomani del sisma dalla Ebitemp per completare gli annosi lavori di ampliamento della sede scolastica di via Leonardo da Vinci a distanza di tempo infatti di quella somma che per competenza era stata girata alla provincia dell'aquila sono rimaste a disposizione circa 50 mila euro necessari per la completazione del campo polifunzionale indispensabile per il plesso scolastico una somma irrisoria se si pensa al totale della donazione che la provincia però ancora non si decide a rilasciare in favore della scuola le motivazioni dotte dall'ente provinciale non sono note e la Ebitem che come ogni ente ha bisogno di rendicontare anche le donazioni sta facendo pressioni giustificate per capire qual è il problema attonito per questa vicenda il preside Angelo Mancini ma questa donazione dell'Ebitem 400 mila euro una donazione importante che serviva proprio per dare una sistemata all'edificio soprattutto a livello in termini di arredi e di laboratori e era compreso anche la realizzazione di un campo polifunzionale perché l'istituto ha 50 classi e la palestra chiaramente non è sufficiente per soddisfare le esigenze adesso a distanza di 4 anni il dirigente del settore economico e finanziario della provincia sostiene che con questi 40 mila euro questa donazione non possono essere fatti lavori per realizzare questo campo polifunzionale è una roba incredibile perché la provincia l'amministrazione provinciale ha destinato questo edificio al liceo classico al liceo linguistico e alle scienze umane non ha all'interno fatto nulla noi siamo entrati in quell'edificio dove c'erano soltanto banchi e lavagne della protezione civile un edificio vuoto con le donazioni abbiamo realizzato tutto adesso è necessario realizzare questo campo parliamo ora di montagna rinasce il comprensorio sciistico mamma rosa a investire per il rilancio è un gruppo di giovani imprenditori locali piste da sci con impianti e tecnologie innovative snow park con più di 20 strutture animazione e intrattenimento e ancora aree attrezzata per i più piccoli chalet e aree food con prodotti tipici di qualità gli storici impianti sciistici di mamma rosa trovano nuova vita grazie al progetto maielletta oui a portare avanti l'iniziativa è un gruppo di giovani imprenditori locali rappresentati in conferenza stampa a pescara dagli amministratori delegati della società che ha rilevato gli impianti Francesca Primavera e Francesco Iubatti l'investimento iniziale è di circa 800 mila euro per la realizzazione delle strutture di servizi hanno sottolineato sono stati fatti investimenti senza alcun finanziamento pubblico il progetto punta su un nuovo approccio all'offerta turistica montana due secondo i promotori sono i punti di forza del progetto l'innovazione filosofica con la promozione di eventi iniziative collaterali dedicate alle famiglie e agli appassionati di snowboard e l'innovazione tecnologico strutturale con un nuovo ski lift un punto vendita mobile e online il wifi su tutta l'area e la maielletta card una sorta di telepass valido per tutto il comprensorio che darà diritto anche a sconti e offerte Francesco Iubatti non vi nascondo che a livello imprenditoriale non c'è stato un commercialista un consulente che ci abbia confortato sulla bontà economica dell'operazione era un'operazione che è stata fatta col cuore senza guardare le cifre guardando la luna appunto e non il dito però lo abbiamo sognato talmente tanto questo progetto negli anni passati nei decenni passati che sempre più e mai come oggi ci sembra l'unica vera strada per una nuova visione un nuovo approccio per il settore turistico invernale estivo montano che sia anche compatibile con la realtà che stiamo vivendo e con il futuro che viene prospettato per quanto riguarda l'Italia quindi crediamo di aver creato veramente l'inizio per lo sviluppo di un contenitore visionario ed è tutto per questa edizione del TG7 grazie per l'attenzione a tutti voi una cordiale buona domenica